Maurizio a convocare subito questa conferenza stampa perché c'è il riposo del giorno dopo però la stanchezza accumulata nei giorni di grande lavoro ce n'è stato tanto ed è stato uno degli eventi più riusciti di questa iniziativa. Quindi il bilancio è fortemente positivo, è positivo dal punto di vista delle persone, dal punto di vista del progetto, dal punto di vista della giostra in quanto tale. Abbiamo finalmente realizzato quello che abbiamo detto per anni, quello che abbiamo detto non è stato soltanto un like motive che si ripeteva ma un qualcosa che voleva raggiungere un obiettivo, la presenza dei media nazionali. La presenza della giostra nei media nazionali è la certificazione che il lavoro che viene fatto è quello, ed è in quella direzione. La presenza della giostra a Roma nel momento dell'Epifania ha aperto anche le porte di Rai Vaticano e quindi è un risultato fortemente positivo. Tra le tante cose che noi stiamo valutando è quello di affiancare a questi stupendi volontari perché qua si tratta di volontari eccezionali, un gruppo di professionisti che trasformi questo fiume di iniziative, di persone che invadono la città, l'Interland, in un qualcosa di concreto ancora di più, di positivo, di economico. Perché l'obiettivo nostro è quello, quello di un progetto che sia un progetto itinerante che coinvolga le grandi cose della città e quindi Ovidio, Campo 78, Celestino Quinto, ma l'obiettivo nostro è quello di coniugare uno sforzo collettivo di tutta quanta la provincia intorno a delle cose importanti. Io ho preso l'impegno con il sindaco di Aquila di far essere presente una delegazione importante quest'altro anno della giostra cavalleresca. Ad Avezzano terremo una cena rinascimentare il 10 prossimo venturo, quindi un grande progetto che non deve interessare soltanto Sulmona ma che deve interessare la provincia e le cose più importanti della provincia, vedere quali sono le più importanti dell'Aquila, vedere quali sono le più importanti di Avezzano, quelle più importanti di Sulmona e fare un unico progetto che faccia capire che cosa si viene a fare in Abruzzo e in modo particolare a questa parte dell'Abruzzo che è la provincia dell'Aquila. Questo è il nostro obiettivo. Io non posso concludere il mio intervento senza dire grazie al popolo della giostra, bravi perché avete avuto la forza di fare una cosa di alta professionalità e ne avete dato la forza di raggiungere obiettivi importanti che poi torneranno utili anche alla città di Sulmona.